Abbiamo deciso insieme con Enzo Malafronte, il Consorzio e i nostri collaboratori di puntare ad un'idea di sviluppo di livello nazionale ed internazionale, creare un polo del floro vivaismo nella regione Campania a partire dalla realizzazione di una struttura che abbiamo chiamato Mercato dei Fiori ma che poi sta diventando una piattaforma logistica, un luogo di produzione anche industriale che dovrà essere un motivo di orgoglio per tutta la regione Campania, oltre che un'occasione per incrementare il settore e creare ricchezza e lavoro. Gli investimenti, i progetti servono per realizzare queste due cose, ricchezza per chi lavora, chi investe, chi si gioca la vita in queste iniziative e lavoro per sé per la famiglia, per i giovani. Questi sono gli obiettivi.